Benvenuti ragazzi Oggi siamo alla seconda parida di trasferta Oregon, Washington Quindi praticamente siamo in questo momento A tre ore dal Canada E' una cosa veramente pazzesca Perché non siamo in Canada Non sono neanche mai andato in Canada Però lo senti che sei vicino a un posto strafreddo Oggi giochiamo appunto a Washington Buongiorno Oggi giocheremo a Washington E poi Dopo la partita andremo a Montana 12 ore dall'Oregon Quindi abbiamo fatto questo trip abbastanza strano In cui Oregon, Washington, Montana E poi dobbiamo ritornare Siamo già in ritardo Andiamo a prendere le mie cose Perché penso che andremo subito alla partita dopo Quindi Non so perché sta accelerando quello con Bruce Perciò 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 un nuovo video ragazzi Dei giorni Andiamo ok Forza Ciao Ho dimenticato le chiavi Thank you my savior Noi siamo pronti in carichi Allora andiamo Allora via Allora let's go My face This is the team Lasciami Ciao come stai Let's set it up On the bed 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 Come on Justin What? Are you in this room? Yeah You can, I can go Best players of the team On the bed 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 Questo è l'hotel Ok never mind Niente questa è la porta Questo è Mark Questi due letti Questo è morto E vediamo un attimo la vista Sicuramente spaziale Di questo hotel Wow Le siepi Sei nel posto di Corban Dai 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 Caglia di zio Eccoci Questa è una foto Che hanno fatto in allenamento Siamo in Walla Walla Washington Right now We're going to breakfast Let's see how the day goes First game of conference Right? Yeah What do you expect? What are your feelings? I expect to dominate You know Big win and then going to Montana And do the same thing Let's do it Allora raga Volevo darvi un po' di contesto Quando si va in trasferta Nei trip Si svegli Dove andiamo a mangiare Boom Solitamente si organizza La sera prima Abbiamo trovato questo posto Bisogna mangiare colazione lì Siamo qui in trasferta Con le ragazze Quindi c'è la squadra femminile Loro non giocheranno oggi Perché la squadra che affrontiamo oggi Non ha la squadra femminile Ma giocheranno domenica È veramente un vibe pazzesco Sembra tipo un po' The office Questo cosa qua Lo senti Veramente vi assicuro Oh ciao Oh nice Low key This city is not bad È incredibile perché a volte Penso a voi Che vedete queste cose Ci sono delle cose Che è proprio Stra-America C'è anche queste cose qua Guardate questo building Proprio America You didn't have this mask No, no It's not yours It's Abbey's It's Abbey's You're lying Bro, I swear You're lying Bro, it's not yours No Why What do you think about this place? So far it looks good I like the ambiance The ambiance? I like how they don't Wow It's fancy I like it Is it fancy? No, fancy Ah, ok, fancy French toast Bacon Tramble eggs Potatoes Same thing for Reggie What is it? It's so awful I like that Eggs benedict What is this? Pancakes Well done Let's go No Hi, this is Mateus This guy, bro Di ciao, mi chiamo Sad Sono molto contento di partecipare a questa nuova edizione del GFVip Sad, cosa porti dentro a casa? Porto tutta la mia dolcezza, esperienza, delicatezza Un treno in mezzo alla strada Niente, ragazzi, adesso torniamo in hotel Per parlare delle valigie Anche se in realtà non abbiamo disfatto niente Poi andiamo in Montana Oh, my God Good night for you Ok, allora ragazzi Come avete capito siamo in pregame Ora vado su da Mateus Che è l'unico che ha il gel La signora, la signora che faceva le pulizie si è spaventata Terzo piano, noi siamo amici almeno uno Sai che io almeno uno siamo destinati a stare insieme Oggi sto roccando le mie nove Jordan 321, 323 Ciao ragazzi, come state? Ciao, ciao, come stai? Ciao, come stai? Ciao Ciao, come stai per singi? Got to be Got to be Got to be Oh wow Non lo like, sono franzo, ma ne suono Allora ragazzi, benvenuti nella mia pregame routine Bellissimi Figa Guardate questo Do it again, do it again Oh, you do it Do it again Ciao, come stai bellissimi? Come state? Ciao, come stai bellissimi? Basta Ancora, cosa devi fare per la settima volta? Figa Come state, come state? Come state bellissimi? Ciao, come state bellissimi? Bellissimi? What's not bellissimi? Ciao, come state bellissimi? Bellissimi Figa, non è che devi scrivere il teore di Pitagora al contrario, dai Ciao, come state bellissimi? Ok I'll be back, I'll be back Um Chuck, 9 for Matteo, si vuole un po' di say hi? Boom Ciao, come state bellissimi? Oh 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 Yeah, bole, bole, bole Questa è la situazione Are you doing homework? Yeah Oh my god One hour before game time homework This is dedication, guys, this is college life Huh? I randled I randled Oggi raga ho bevuto tre tazze di caffè, mi sento una bestia, ragazzi Il problema è che non so quanto giocherò, però mi sento tre gol I love the way he talks I love the way you look Bella smooth, ah, eccomi qui Quindi ragazzi abbiamo il driver che ci odia, la signora che guida Oh What's up? Just see me by the fraternità Yo, Jacob You said what? Yes, I know What's up, my name is Hermes Non mi sento un giro E' che diverti Emma's like, i wonder if the air pub Oh Oh Conce Questa 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 Buongiorno. 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 Matias, è ok. È ok. lo chiamano ah scusa what the fuck are you talking what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck one walk walk for me yes 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 a hug come on I'm gonna hug I'm gonna hug thank you thank you Mary no come on no come on maybe Mark well done thank you 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 oh I don't know just leave here they know me I'm from Saron eh ragazzi siamo arrivati nuova location c'è una montana i ragazzi stanno scendendo le ragazze vanno a mangiare ok raga allora siamo qua un po' nella nostra chiacchierata del dopo partita siamo arrivati in hotel mi sembra che ha fatto la doccia vi assicuro che non sono grosso purtroppo però è la maglietta che mi è andata che è molto molto piccola oggi ho la batteria scarica quando è così vuol dire che è stato veramente un giorno incredibile quindi spero di aver fatto Jack che sta facendo questo video vuol dire che hai fatto un bel lavoro perché sicuramente sarà tanto editing oggi non so ho pensato di fare questa questa chiacchierata perché in realtà volevo levarla oggi ho detto abbiamo fatto così tante cose che magari non voglio nemmeno stare qui poi a parlare un po' con voi però in un momento un po' emozionante ho ripensato un po' alla fine un po' alla mia carriera come sono arrivato qui quattro ore di viaggio quindi sicuramente il tempo per pensare c'è stato noi tutti io stesso alla fine anche se non sono poi così piccolo però sogniamo di arrivare in serie A sogniamo di arrivare comunque di diventare professionisti però quanto davvero è il lavoro per arrivare lì e quante giornate che tra parentesi perdiamo no per questo sport quante amicizie serate occasioni che non possiamo come dire cogliere perché siamo in viaggio perché è una partita e quindi la strada per arrivare lì sono otto ore di autobus sono mangiare una pizza stasera perché siamo siamo molto tirati quindi c'è l'umiltà di questo sport e penso che sia una cosa che ti forma poi nella vita guardando anche gli altri ragazzi così studiare veramente darsi da fare metterci veramente tutto quello che possono fare per cogliere ogni attimo e quindi mentre sei in autobus fare i compiti fare esami eccetera è veramente una cosa molto molto incredibile che appunto sono riuscito a dimostrarvi con questo vlog spero la partita è andata come è andata 4-0 abbiamo vinto la prima di campionato quindi sono molto contento ti ringrazio un abbraccio Jackson Vitale o Troy Volto scegliete voi ciao 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 ciao